In un momento di forte criticità a livello occupazionale, resi ancora più forti dalla pandemia in corso, la Società di Trasporto Pubblico Abruzzese Latua va in controtendenza e assume. Si tratta di ben 127 assunzioni di diverse figure professionali, più altre da quantificare, nel settore ferroviario dei macchinisti, assunzioni che fanno parte del grande progetto complessivo di ristrutturazione dell'azienda e che si concretizzeranno tra il 2022 e il 2023. In particolare, nel 2022, con contratti di apprendistato, saranno presi 5 operatori di esercizio, 5 amministrativi e 5 tecnici, più 3 assunzioni di personale qualificato, con 3 laureati in ingegneria. Nel 2023, 50 operatori di esercizio, 5 amministrativi e 5 figure tecniche. L'azienda ha colto diversi accordi con i sindacati e così si potranno fare queste nuove assunzioni, usando alcune leggi nazionali e creando le condizioni per una formazione del personale che porterà sia ad un ricambio generazionale, ma anche ad avere nuove competenze professionali. A breve sarà presentato un piano strategico per illustrare le novità in campo di trasporti. La tua assume ed è un'operazione importante perché viene fatta nel momento in cui in Abruzzo ci sono diverse difficoltà per quello che riguarda il mondo del lavoro. Sono un numero di persone che credo abbiano una notevole rilevanza, stiamo parlando di 127 assunzioni, con in più la possibilità di un numero che però dobbiamo ancora definire e di aumento per quello che concerne i macchinisti del settore della ferrovia. E' quindi un dato che oggettivamente di per sé, riteniamo una grossa notizia per quello che riguarda l'Abruzzo, per quello che riguarda un settore che partendo da una crisi oggettivamente difficile, oggi si trova a muoversi in una logica per la quale l'Abruzzo avrà nuove assunzioni. Presente è anche il presidente della regione Marco Marsilio che ha descritto il piano delle assunzioni e ha ricordato che in questi due anni i bilanci della tua sono stati conclusi in attivo. Marsilio ha sottolineato il grande lavoro portato avanti dall'azienda durante la pandemia e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. I trasferimenti dello Stato, ha detto, hanno tagliato i bilanci regionali e la regione ha dovuto tagliare le voci di spesa, compreso il contributo al trasporto pubblico. Pensare che i bilanci del Comune e delle Regioni si possano continuare a fare come in era pre-Covid non è possibile, ha detto Marsilio, e questo anche nei trasporti pubblici, argomento che più volte il presidente ha sottolineato in conferenza delle regioni e lo rifarà di nuovo. Dei deficit non colmati ci sono anche in ambito sanitario, ha ricordato il governatore.